Ciao, abbiamo fatto un po' di lavoro in casa, quindi adesso l'ingresso non è più questo ma è diventato questo qua per dividere la zona giorno dalla zona notte. La zona notte è privata e gli ospiti non possono entrare, mentre la zona giorno è quella per gli ospiti. Quindi qua non si entra, adesso c'è questa porta che dice vietato entrare e poi c'è questo ingresso con un piccolo salottino con i divani verdi, con una vetrinetta per gli alcolici, un po' di quadri per raccogliere gli ospiti, per sedersi e fare due chiacchiere. C'è un armadio, altri quadri con degli uccellini e poi c'è la sala, la sala da pranzo, molto grande, dove mangiamo con gli amici, la cucina, anche questa è molto grande perché siamo 5 persone che abitano qui, il frigorifero e poi la novità che abbiamo fatto quest'anno è mettere questa specie di terrazzo, questo patio con un tavolo e le sedie, con il giardinetto e qui nella lavanderia abbiamo fatto il bagno per gli ospiti. Quindi il bagno degli ospiti adesso si trova lì. Così per esempio la sera possiamo stare qui fuori a fare il barbecue, abbiamo comprato anche un barbecue, al cosco e quindi possiamo stare qui a guardare un po' di verde e a mangiare.